Inauguriamo oggi questa prima parte 100 posti auto che vengono messi a disposizione dei cittadini in occasione delle feste natalizie, 100 posti gratuiti per questo periodo, un intervento che la città aspettava da tantissimi anni, direi quasi un decennio, e che finalmente si concretizza grazie all'impegno dell'amministrazione comunale che ha reperito le risorse, e ha avviato i cantieri e ovviamente ai lavoratori che stanno da mesi lavorando per raggiungere questo obiettivo di dare alla città prima delle feste natalizie un primo adeguato numero di posti auto, per poi arrivare a maggio al completamento dell'intervento e la città avrà oltre 300 posti in un punto nevralgico dove è fondamentale una grande rotazione anche per rivitalizzare il commercio cittadino.